Buongiorno a tutti, oggi è martedì 8 dicembre e vorrei parlarvi di un libro per me molto caro, l'ultimo libro di John Kalman Stefansson, Crepitio di stelle, edito da Iperborea. Attraverso quattro generazioni e riattivando i meccanismi della memoria, Stefansson ci parla di questo nostro bisogno incessante, di un senso della vita e di un bisogno di trovare le proprie radici. Queste quattro generazioni di uomini e donne di cui ci parla sono la sua famiglia, con la storia burrascosa e irrequieta del bisnonno, la tristezza del papà che si innamora di una giovane donna ribelle che gli dà un figlio ma che muore quando questo bambino ha 7 anni. E il bambino di 7 anni è lui che a 40 anni ripercorre la memoria e i ricordi e ci ricostruisce un secolo di storia d'Islanda attraverso questi personaggi.